Adesso eseguo il ground, mi raccomando, occhio alle gambe. Posizione dei piedi abbastanza larghi, paralleli alla linea della battigia, baricentro basso. Braccia staccate dal corpo, io il sinistro lo tengo un pochettino più alto, il destro lo considero il mio fulcro, il mio punto d'appoggio, per sfruttare ancora di più il sinistro. La posizione del piombo è perpendicolare alla canna e quindi adesso eseguo. E un'altra oratella si affaccia, grande Emi, sta salendo la taglia. Sì, certo. Come da previsione, con 175 grammi appena appena.